Siamo a Villa Cipriani di Asolo, uno dei templi dell'accoglienza italiana, un hotel in cui vengono soprattutto tantissimi stranieri, anche molti italiani, ma davvero un'eccellenza, come si direbbe oggi, della nostra accoglienza, della nostra hotelleria. Che però è anche casa di Massimo Zanetti da qualche anno, che qui appunto ha un po' la sua base, possiamo dire. La mia abitazione è abito a Asolo, a 100 metri dell'hotel. E proprio in questa giornata c'è stato questo gran fondo di ciclismo che ha raccolto tantissima gente, ha animato il paese. Diciamo che per Segafredo non da oggi lo sport è una cosa seria. Sì, io ho la passione dello sport perché da sempre ho usato lo sport e l'arte come forma per le varie pubblicità delle mie aziende. Quindi ho sponsorizzato dalla Formula 1 agli incontri di Pugilato, le gare ciclistiche. Quindi io sono molto attaccato allo sport, ho sempre fatto sport nella mia vita e quindi per me lo sport è un fatto fondamentale. Sono due cose che si legano molto, sport e arte. L'arte è un po' una fatica anche fisica e lo sport è anche un gesto artistico. Ma diciamo una cosa, che l'arte e lo sport sono le cose belle dell'uomo. Tra queste cose adesso c'è anche la Virtus. Come questa testa sia arrivata a una finale che nonostante la società bianconera, la società tra le più storiche del basket italiano, ne abbia giocate tante, questa però ha un sapore particolare per tutti, anche per lei? Ha un sapore particolare perché il primo anno noi siamo entrati per aiutare la Virtus e da subito abbiamo avuto un successo incredibile. È una squadra fatta per navigare in A2 e invece è stata fatta molto bene il nostro grande presidente Alberto Bucci che io stimo infinitamente. Abbiamo vinto la Coppa Italia e quindi è già stato un grosso successo questo. Adesso siamo finiti in finale del campionato e quindi se vinciamo diventiamo campioni italiani dell'A2 e andiamo in A1. Quindi sarebbe un coronamento incredibile e un grande regalo ad Alberto Bucci. Cos'è scattato in questo gruppo a un certo punto? Ma è scattato, io penso le due cose fondamentali. Tutto il gruppo ha sempre giocato benissimo, noi abbiamo Spissu e tanti altri giocatori, sono tutti fortissimi. Ma io penso che la cosa che ha fatto fare l'innesto è stato il fatto di Ndoia che è guarito, è tornato a essere quel leone che lotta su ogni pallone. E anche è un uomo spogliatoio, è proprio il leader. E Gentile che è un uomo, un grande aiuto per Spissu. E quindi queste due personalità hanno fatto fare un secondo me un salto di qualità alla squadra. Adesso questa finale con quali prospettive? È una finale molto dura perché devo dire che Trieste mi fa tanta paura. Perché la squadra, se va a Trieste non lo sappiamo. Se c'è la fortitudo sarà una battaglia incredibile a Bologna e poi vinca il migliore. Con Trieste, Trieste mi fa paura perché è una squadra molto tosta che lotta molto e quindi sarà una finale molto lottata secondo me. Cosa l'ha conquistata del basket in questi mesi? Beh, io avevo già avuto anche la basket a Gorizia e quindi diciamo una certa esperienza l'avevamo già fatta. Il basket è bello perché lo trovo uno sport oggi molto pulito, molto pulito e con, come posso dire, ancora con i piedi per terra. Ecco, diciamo così, il calcio è arrivato a delle vette stratosferiche internazionali che esulano un po' dal contesto nazionale. Ecco. Voi siete arrivati, avete detto, progetto di 3-4 anni più o meno per arrivare in Europa, quello sarebbe più che un sogno, un obiettivo diciamo. Anche se poi naturalmente i tifosi sono legati alla dimensione del sogno e quindi andare in A1 subito, se dovesse succedere, accelererebbe questo processo o è meglio andare per gradi un passo alla volta? Beh, noi se andiamo in A1, io ho già preso degli impegni, cercherò di fare una squadra forte da A1. Tutto l'ambiente, diciamo, del basket internazionale aspetta la Virtus a livello anche internazionale, perché, ripeto, l'Italia, al di là di tutto, Olimpia e Virtus sono le squadre più così, anche storicamente, più rappresentative, e quindi penso che se la Virtus va in A1 possa facilmente andare in Europa, ecco. Nel caso possiamo toccare qualunque monile disponibile, non dovesse succedere? Qual è l'impegno di Segafredo Zanetti? Noi faremo una squadra forte per poter lottare per tornare in A1 l'anno prossimo. Non è detto che noi dobbiamo vincere, andare in A1 subito, ripeto, la squadra non era stata fatta per andare in A1, la squadra doveva fare un bel campionato di A2. Dopo cammin facendo, Bucci e i suoi collaboratori sono stati bravi, hanno fatto una bella squadra e adesso ci troviamo in finale. Questa rivalità con la Fortitudo è uno stimolo ulteriore, si guarda dall'altra parte un po', oppure no? Io devo dire questo, non essendo bolognese, anche se ho vissuto a Bologna per 20-30 anni, c'è rivalità, ma è giusto come ci sono le varie squadre nelle città, è giusto che c'è rivalità, ma io spero che la Fortitudo vinca con Trieste in modo di andare a fare una finale Fortitudo-Virtus e sarebbe un grande spot per il basket italiano, perché la partita nostra con la Fortitudo in televisione è stata più vista, addirittura meglio delle partite di A1, quindi sia Fortitudo, sia Virtus, sia Treviso, sono squadre che meriterebbero di essere in A1 tutte. Significa che le vostre quote non cresceranno a breve termine, a quel 40%? No, io ho sempre detto che io aiuto la Virtus, torno a Virtus, però le nostre quote sono al 40% e restiamo là, perché dobbiamo farlo in compagnia dei bolognesi. Ha vissuto sia l'Unipol Arena che il Paladozza, quali sono le impressioni per il futuro, quale potrebbe essere l'idea? Il Paladozza è molto gratificante, dal punto di vista senti molto più il calore del pubblico, questo sì. L'Unipol Arena ha un respiro molto più ampio, se si dovesse andare in Europa puoi far partite a 9-10 mila persone, quindi sono due risvolti da vedere, adesso gli uomini che gesticono la nostra società decideranno cosa è meglio fare, in sintonia anche col comune, con l'assessore, decideranno cosa è meglio fare per loro. Ecco, io non entro nel merito della gestione, diciamo così, tecnica della società. Cosa c'è nel futuro di questa Virtus? Quanto durerà questa passione di Massimo Zonetti e destinata ad aumentare? No, noi resteremo sempre a quel 40%, cercheremo di aiutare, di fare una Virtus forte, per fare una bella 1, certamente. Siete pronti? Siamo pronti, siamo lì, solidali e forti.